Il suo progressivo accreditamento all'interno dell'organizzazione rendevano plausibile l'ipotesi che dovesse diventare il nuovo capo della mafia a Palermo. Avevamo segnali di una sorta di carriera di nicchi che cresceva sempre più in importanza e l'imponente dispositivo che lo proteggeva e che è stato sagacemente penetrato dalle indagini di polizia lo conferma ancora una volta. Quindi si tratta di un successo che non è enfatico definire straordinario e che prepara probabilmente il collasso delle strutture mafiose a Palermo. Rimane ancora molto lavoro da fare ma credo che lo stiamo facendo tutti quanti bene.